Allora, intanto racconti un po' di queste sensazioni di rivestire quella maglia che è stata tua all'inizio della carriera, quando sei arrivato con Magliocchetti, mi ricordo, sei una giovane promessa, anni sfortunati. Sì, per me è stata una grande emozione poter ritornare qui. Nonostante, come dici tu, sono stati anni molto difficili per questa società, per la gente di Verona, io ho sempre conservato un ricordo molto molto bello, anche perché è stata la mia prima squadra, che mi ha dato l'opportunità di giocare, quindi è una società questa che mi è rimasta sempre comunque dentro. Sono molto contento ed emozionato comunque di poter far parte ancora di questa società. Che Verona hai trovato? Sei punti in dieci partite, magari qualche domanda te la sei fatta, non nella scelta ma comunque quando sei arrivato in un gruppo che comunque veniva da un momento negativo, al di là di tutte le infortuni e tutto il resto. Vista da dentro, qual è l'impressione? Sai, quando si viene da un campionato come quello dell'anno scorso, che è stato un campionato esaltante, diventa sempre molto difficile alzare l'asticella, quindi tutto quello che fai poi può sembrare che è negativo. È ovvio che non è un momento positivo, però credo che è in linea con quello che è poi il programma della società in questi anni. Io credo che l'anno scorso è stato fatto qualcosa di straordinario, che non rientrava nella normalità. Sicuramente è un momento un po' particolare, però credo che ho trovato un gruppo che ha grande voglia di uscire fuori da una situazione un po' così e credo che a tempo lì si sia anche visto sotto certi aspetti. Non che manchino i grandi giocatori in questo Verona, nel senso che poi hai già trovato Luca Toni, c'è Rafa Marquez a Via Saviola, chi gioca di più, gioca sempre, gioca di meno. Quelle poi sono le scelte, però quanto personalità non si può dire che in questo Verona manchino delle figure carismatiche. No, no, ma infatti è quello che ti dicevo, nel senso che tu entri dentro lo spogliatoio, comunque vedi che sono giocatori che hanno avuto un'esperienza e un vissuto di altissimo livello. Lo vedi da come si rapportano con te, da come vivono lo spogliatoio e questo lo si percepisce anche se non parlano molto o comunque sono più riservati. Poi quello dipende dal carattere che uno ha. Io da un'ultima cosa, da esordio a Empoli adesso arriva il Parma, due scontri diretti. Il primo è un punto prezioso, il Parma è un impegno che conta, si dice sempre in questi casi, quei punti che valgono doppio, no? Beh, sicuramente è una partita importante, visto un po' il momento che è importante del campionato secondo me, però credo che non sia l'ultima partita del campionato, quindi la dobbiamo preparare nel modo giusto, con la giusta attenzione, con la giusta anche paura sotto certi aspetti, ma credo che non sia l'ultima partita, quindi è una partita importantissima per noi, dobbiamo far punti, possiamo far punti, vogliamo sicuramente scendere in campo per vincerla, però sapendo che poi mancano ancora tantissime partite. Beh, innanzitutto, caro Leo, ben trovato, e ti chiedo, come è nata questo tuo ritorno in maglia gioiello blu? Quando hai saputo che saresti tornato a vestire la maglia dell'Ellas? Allora, dire la verità c'è stato sempre da quando sono andato via, più di qualche volta, qualche contatto con la possibilità di ritornare, ma poi non si è mai concretizzato, anche l'anno scorso c'era stata la possibilità, poi per un motivo o per un altro non si è fatto niente. Quest'anno, per alcune questioni a Genoa, è nata la possibilità di poter andare via, e la prima squadra che mi ha chiamato è stato il Verona, quindi io ero a casa, in vacanza, parlando col direttore mi ha spiegato un po' com'era la situazione qui, che ambiente c'era, la voglia che comunque c'è qui a Verona di fare un buon calcio e quindi di uscire fuori anche da una situazione particolare. E io, nel momento in cui c'erano stati tutti i presupposti, ho dato comunque la priorità alla possibilità di ritornare, perché c'erano anche altre squadre, però non mi interessava perché volevo prima riuscire a avere la possibilità di poter tornare. Poi si è concretizzato e quindi sono stato veramente contento. In ultima ti chiedo, ai tifosi cosa ti senti di dire? Li ritrovi a pochi anni di distanza, insomma, gli ultimi ricordi non erano certo dei migliori, oggi il nuovo Leandro Greco che ritorna a Verona, cosa si sente di dire ai tifosi? Io ho avuto sempre un bellissimo ricordo, perché nonostante quegli anni ho sempre percepito un certo affetto nei miei confronti e quindi per me è stato sempre un motivo di orgoglio. Promesse non se ne fanno, quindi massimo impegno, serietà e professionalità per raggiungere l'obiettivo che questa società comunque merita e l'impegno che questi ragazzi hanno messo in questi anni è qualcosa di straordinario, quindi massima serietà e impegno. Vista la formula con cui tu sei tornato a Verona, nel caso in cui tu risponda come tutti ci auguriamo, può essere un'operazione molto intelligente quella che ha portato a buon fine l'Elas Verona, perché insomma il riscato del Verona nei confronti del Genoa non è una cifra così elevata, quindi insomma se il buon Leandro ha intenzione appunto di fare bene qui a Verona può essere veramente un affare per la società di Via Belgio questo? La mia decisione di venire qui è indirizzata su questa cosa qui, nel senso di rimanere più a lungo possibile, anche perché ne ho girate di squadre in questi anni, un'esperienza non fatta, quindi mi piacerebbe costruire qualcosa di importante sia dal punto di vista professionale ma anche con la città che comunque ho sempre avuto un debole per questa società, perché, ripeto, è la prima società che mi ha dato la possibilità di poter giocare. Io ti volevo chiedere invece qual è stata la tua emozione, diciamo, quando è iniziata la partita di Empoli, che cosa ha provato Leandro Greco a tornare a vestire la maglia del Verona? Ma più che la partita, sicuramente sono stati i primi giorni, ritornare qui che anche se noi non ci allenavamo qui, ci allenavamo all'antistadio, qualche volta siamo venuti a rincontrare Alberto, il fisioterapista, Raffael, Thomas il magazziniere, Sandro, che era il mio capitano quando ero qui, quindi sono state un insieme di cose che mi hanno emozionato. Sicuramente domenica sarà una partita diversa rispetto a quello da Empoli, tornare al Bentecoti con il pubblico di casa, quindi sicuramente domenica ho voglia di riprovare determinate emozioni e sensazioni che ce l'ho ben stampato in testa.